L'almanacco della fede Di Padre Livio E oggi come pensiero di apertura Volevo illustrare questo aspetto Della fede cristiana Che è molto importante Specialmente oggi E cioè la universalità del cristianesimo Cioè il cristianesimo Pur essendo nato diciamo In un luogo ben preciso In Palestina Avendo come precursore Possiamo dire Un popolo ben preciso Che è il popolo di Israele Tuttavia Fin dall'inizio Il cristianesimo è uscito È matto al di là Delle diciamo così Dei confini Geografici E etnici Da dove è nato E si è proposto Come una Una salvezza universale C'è da dire però Che questa ampiezza Nella storia della salvezza È già Nell'Antico Testamento Già in Abramo Sono benedette Tutte le nazioni della Terra Quindi Anche Prima del cristianesimo Anche l'elezione di Israele È in funzione Di una salvezza universale E questa Si è realizzata In Gesù Cristo Anzi È talmente universale Questa salvezza Che San Paolo La descrive In termini cosmici Tutte le cose Sono state create Per mezzo di lui C'è tutto l'universo È stato creato Per mezzo di lui È in vista di lui Quindi L'incarnazione del verbo Cari amici È la risposta Alle attese Che si manifestano In tutte le religioni del mondo Che come appunto Diceva un grande storico De religioni Mersia e Eliade Tutte sono In un modo o nell'altro Un tentativo umano Di risposta All'angoscioso Interrogativo Che riguarda la morte E quindi Il verbo Facendosi carne Espiando i nostri peccati Al nostro posto E per il nostro amore Risorgendo Gloriosi dei morti Ha risposto A questa attesa Che è presente In tutte le religioni In tutte le culture C'è la presenza Di un salvatore Che non è però un mito Come c'è in tante religioni C'è il mito del salvatore No? È una realtà storica È Gesù di Nazareth Che si è incarnato Nel grembo di Maria Che è una Una persona Ben identificata Colocata anche storicamente Geograficamente Di cui conosciamo Tante cose E già Storicamente accertate Quindi È un evento Che da una parte Risponde Alle attese universali Del genere umano Dall'altra Propone la salvezza A tutti gli uomini Di tutti i tempi Infatti Gesù Dice anche Gesù dice Dice Che lui è stato mandato Per le pecorelle Per tutte di Israele Quella era la sua missione Anche se a volte Ha sconfinato Ha andato in Siria Ha andato In Libano Cioè Ha andato Quindi anche al di là Dei confini Di Israele Ma la sua missione Era quella Era precisamente quella Ma poi Lui stesso Per quanto riguarda L'annuncio Della salvezza Nella morte E risurrezione Appunto Di Gesù Ha detto con chiarezza Andate Predicate il Vangelo A tutti gli uomini Fino agli estremi Confini della terra Quindi Il cristianismo È un legato universale Quindi si rivolge Agli uomini Di tutti i tempi E Questo è stata Per così dire L'impostazione Della fede cristiana Fin dall'inizio E quindi Fin dall'inizio Già Gesù stesso Aveva avuto Diciamo Incontri Con persone pagane Come il centurione A cui ha guarito Un servo E insomma Ha sempre dimostrato E anzi Lui stesso Ha indicato Esempi di fede Anche fra i pagani Del suo tempo Che rispondevano Poi Alla Chiamata Della fede E poi Si è posto subito Il problema Per gli apostoli Di predicare il Vangelo Anche ai gentili Poi la pastora Paolo Si è programmato Lui Come Incaricato Di Dio Per annunciare Il Vangelo Ai gentili E quindi La prospettiva Della salvezza Universale Cioè Il cristianesimo È nato Con la prospettiva Di una salvezza Universale Che riguarda L'uomo Di tutti i tempi Quelli passati Quelli presenti E quelli futuri E il cristianesimo Non è mai venuto Mai È mai venuto Meno A questa Caratteristica Di religione Universale Quindi È una religione Che è radicalmente Diversa Dalle altre religioni Da tante altre religioni Non solo perché Noi Come cristiani Riteniamo Che il cristianesimo Sì una religione divina Che viene Va a Dio stesso Cioè Il padre Che infine Il figlio Che si fa uomo E quindi È Quindi La religione divina La parola Il centro Cioè Il fondatore Del cristianesimo È Il verbo Fatto carne Cioè Il figlio di Dio È la sua parola È la parola di verità La pienezza Dalla verità Come Gesù ha detto Io sono La via La verità La vita Per tutta Per tutto il mondo Durante la sua storia Il cristianesimo Non è venuto meno A questa caratteristica Che è una religione Universale Che non può essere Ristretta A gruppi etnici Questo noi lo vediamo Fin dall'inizio Quando appunto I apostoli Predicono i Vangeli Pagani E la predicazione apostolica Praticamente È andato Perfino Oltre L'impero romano E Varsi pensare Che San Tommaso Era andato Fino in India Per dire No E quindi Tutti i popoli Ricevono La chiamata Alla fede E tutti i popoli Entrando dalla chiesa Entrano come cittadini Cittadini del cielo In questa grande Famiglia di Dio Dove Dove Sono chiamati Tutti i popoli Della terra Di tutti i tempi Quelli più grandi Quelli più piccoli Senza nessuna discriminazione Allora Perché è importante Questa impostazione Caramesh È importante Perché Poi Stava facendo Noi abbiamo visto Che Invece Meticismismo Ha conservato La sua Caratteristica Particolare Di essere Una regione Universale E quindi Ha superato Rapidamente La prospettiva Della Palestina Dell'ebraismo Stesso Anche se Vi ho detto Che Nell'Antico Testamento Ci sono già Le prospettive Universali Allora Invece Noi vediamo E questa è una cosa Che fa molto pensare Che Man mano che si va Avanti Nel confronto Umano In una società Globalizzata Dove Entrano a far parte Popoli Con Tradizioni Culturali Diverse Con le loro Religioni Noi vediamo Che A volte In termini Molto chiari C'è un tentativo Di fare Della religione Un ingrediente Etnico Una determinata Sdipi umana E così Si finisce Per Come dire Per Divinizzare Le nazioni Che sono portatrici Di queste religioni E di In qualche modo Affermare un primato Su tutte le altre E di Creare Come si Come una Competizione Universale Perché è chiaro Che se Una religione Diviene Etnica Escrude Tutti quelli Che non sono Di quell'etnia E perciò Di qui La pericolosità Che noi Che la Chiesa Grazie a Dio Ha sempre Superato Nel corso Della storia Anzi poi Sappiamo L'espansione Missionare Della Chiesa Ma anche Le cose belle Che ha detto Il concilio A riguardo E cioè Che la Chiesa È Strumento Che è segno E strumento Dell'unità Del genere umano Cioè La Chiesa È segno E strumento Dell'unità Del genere umano E anche Noi vediamo Che come anche La Madonna Sempre Quando Nei suoi messaggi Parlo con i miei Gicoli In modo particolare Si rivolge I suoi figli I suoi figli Praticamente Sono tutti L'uomini Cioè Quando parla Dei lontani Degli infedeli Dice anche Quelli sono Miei figli Ovviamente Sono figli Da chiamare Da chiamare All'uvino Universale Della Chiesa Sono figli In potenza Sono figli In cammino Sono figli Che devono rispondere Alla chiamata Ma tutti Sono destinati Dalla chiamata Cioè Cioè Il cristianesimo Afferma Che tutti Gli uomini Vengono Da una coppia Originaria E in questo senso Efficace Per fraternizzare Per fraternizzare L'umanità E fare una sola famiglia Questa dunque È la prospettiva cristiana Che devono tenere Ben fermi Ben ferma Cari amici In questi tempi In cui tutti Giustamente Cerco di riaffermare Le proprie radici culturali Anche noi Occidente Che abbiamo rifiutato Ributando la fede Della croce Abbiamo anche rifiutato Le nostre radici culturali In realtà Siamo tutti Ricamati Per quanto riguarda Noi cristiani A riprendere La nostra fede Nella sua universalità Nella sua totalità D'una proposta Che riguarda Tutti gli uomini Questo Cari amici Se mi permettete Questa digressione Avverrà soprattutto Nel tempo Dei dieci segreti Di Međugorje Perché Nel tempo Dei segreti Di Međugorje La salvezza Da eventuali Eventi Caramitosi Possiamo chiamarli così E rivolta A tutti quelli Che vogliono rispondere Cioè La possibilità Della salvezza Non le vada soltanto Ad alcuni O soltanto Ad ogni cristiani E dada A tutti quelli Che vogliono rispondere Quindi Non ci sarà Una salvezza etnica O di gruppi particolari La salvezza Sarà Una possibilità Che Dio offre A tutti E tutti Dovranno fare Le loro scelte Ed è in questo Modo Cari amici Che alla fine Verrà superato Il pericolo Di religioni Etniche Particolari Identitari Che però Non rispondono Al piano Universale Di Dio Per il quale L'umanità È l'umanità Anche la Madonna In alcuni messaggi Ha detto L'umanità Ha scelto per Dio Non ha detto L'occidente Ha scelto per Dio Ha scelto per Dio Ha scelto per la morte Vi ricordate Vi ricordate Vi ricordate Che il messaggio Del 25 ottobre 2022 L'umanità Ha scelto per la morte O quello del gennaio Del 1923 Cioè del 2023 L'uomo moderno Quindi l'umanità In generale Non vuole Dio E per questo Ha avuto la perdizione Cari amici Questo è il momento In cui Sorgono Le religioni Etniche Il momento Di tenere ferma La universalità Della fede cristiana L'umanità Ecco della fede Di padre Livio